Non ha sospettato nulla sino a quando non si è visto arrivare i carabinieri a casa che lo hanno convocato al comando Compagnia 10 Reale per comunicargli che il loculo di famiglia, dallo scorso 27 ottobre, era occupato dalla barra della donna trafugata dalla cappella di famiglia e ritrovata ieri. Il professore Elio Tringali, persona nota da Cicatena, mai avrebbe immaginato di finire coinvolto in questa brutta storia di estorsione di cui si attende adesso l'arresto degli autori. Una mattinata da dimenticare per l'uomo che si è dovuto presentare a cospetto del comandante della Compagnia dei Carabinieri di 10 Reale, Capitano Marco Salamone, per le formalità del caso. Il professionista e i suoi familiari sono risultati da subito estranei all'intera vicenda e scagionati dalla possibile accusa di complicità in accordo gli autori del clamoroso furto che per la restituzione della salma avevano chiesto 50.000 euro. Una situazione paradossale per il professore Catanotto che mai avrebbe immaginato di vedersi occupato uno dei loculi di famiglia acquistato con largo anticipo per l'eterno riposo. Un incubo ha durato qualche ora per il professionista, la moglie e i cinque figli maschi della coppia scossi per essere rimasti coinvolti in questa vicenda, loro malgrado. Sono rimasto sconvolto. Devo dire che l'ultima volta che siamo andati al cimitero con mia moglie parlavamo proprio di questo, che questa barra probabilmente era nascosta in qualche posto dentro il cimitero, in qualche loculo. Niente sapendo forse che ce l'avevamo a casa nostra. Siamo arrivati sconvolti, costernati perché comunque avere a che fare con interrogatori, con richieste di andare in caserma, è sempre un fastidio. Pazienza, l'abbiamo sopportato. Speriamo che questa cosa sia chiusa e non ci pensiamo più.